In questi giorni la tensione tra Corea del Nord e Corea del Sud è tornata alle stelle, con il lancio di diversi missili da parte di entrambi. Ma perché? Uno dei motivi è che la Corea del Sud ha iniziato delle esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti, proprio per essere pronti a un'eventuale aggressione. Ma il dittatore coreano Kim Jong-un l'ha presa come una provocazione e il 2 novembre ha lanciato 23 missili balistici. Era dagli anni 50 che un missile nordcoreano non si avvicinava così tanto alle coste della Corea del Sud. Dai tempi della guerra di Corea, che nel 1953 divise i due paesi con la linea del limite settentrionale, all'altezza del 38esimo parallelo. Da quel momento non è mai stato firmato un vero accordo di pace, ma solo una tregua. Negli anni i rapporti tra le due Coree sembravano essere migliorati, ma oggi i test missilistici ci ricordano che i due paesi sono tecnicamente ancora in guerra.